Daniele Moccia, Sprint e Sport, qua con Ramin Binande e Vanchiglia. Mister, vabbè, nulla da dire perché avete fatto veramente una partita pazzesca, avete battuto forse il migliore organico del girone perché loro sono veramente fortissimi, siete comunque riusciti a portare a casa questa vittoria che quanto vale, te lo chiedo a te? Vale tantissimo perché da un seguito alle due vittorie che avevamo fatto prima, quindi con questi 9 punti, adesso ci siamo assestati in una posizione di classifica, per il momento tranquillo, per noi era importante uscire con un risultato positivo, è stato positivissimo perché con una vittoria del genere, ma una vittoria meritata anche, non può essere una vittoria di fortuna, è stata forse meritata, è stata una bellissima partita, forse la migliore nostra dall'inizio della stagione, considerando che avevamo una linea difensiva fatta dai 2004-2002-2001, quindi tenere giocatori come Levantoschi, Guazzo, Innocenti, non era facile, sono stati bravissimi ragazzi. Assolutamente, ma allora, gol di Capitan Moreo ha fatto veramente una gran giocata, poi insomma Barcellona, Porticchia, insomma ha fatto… Tutti in squadra, oggi non posso dire che uno è stato migliore in campo, è stata una vera prestazione da squadra, certo, certo, certo. Volevo chiederti invece, dalla panchina a te i due episodi un pochino più delicati, i due rigori che hanno lamentato loro, che altro, come li avete visti voi? Ma io non so quali rigori, forse quello di Andresa al limite dell'area, che è anche questo il fallo, ma non so neanche se era dentro o fuori quella palla lì, però lui prende la palla, poi quella gamba forse era un po' alta, però ha preso prima la palla. Ok, lamentavano anche un fallo di mano poco dopo, poi verso il novantesimo, non so. Le mische, guarda, già fai fatica a vederli col bar, sicuro? la tecnologia, dalla panchina non si vede, quindi… Certo, va bene. Si sta tutto. Ok, grazie mille mister. Ok, grazie mille.